E' stata approvata dal Parlamento ungherese la legge che vuole chiudere la Central European University, l'ateneo anglofono fondato dal miliardario filantropo americano George Soros nel 1991, che conferisce titoli accademici riconosciuti negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Ungherese, Giano Sader, che ha firmato il provvedimento, ha assicurato che la nuova norma che regola le università straniere in Ungheria non interferisce con le libertà accademiche. Non è servito quindi il corteo che ha sfilato nei giorni scorsi a Budapest per difendere la chiusura dell'ateneo e per chiedere al capo dello Stato di non promulgare la legge. Una manifestazione che si è conclusa davanti al Parlamento per protestare con lo slogan Fermiamo Orban contro le politiche del premier nazional conservatore. Secondo i manifestanti, la legge è una minaccia per la libertà degli atenei e di una società aperta. La nuova misura impone alle università finanziate da paesi non appartenenti all'Unione Europea non solo nuovi vincoli ma anche di stipulare un accordo tra il governo del paese d'origine e quello ungherese.